Chiaro. È arrivato il momento di spoilerarvi il mio prossimo progetto, che in quanto prossimo arriverà... prossimamente. Sarà una cosa che la guardi e dici... ma anche... Di sicuro non... Gli episodi dureranno un totto e ogni puntata sarà puntata sulla felicità, che è appunto il tema di punta su cui io punto moltissimo. E poi si parlerà di cose interessanti. Il sesso. La morte. In puntate differenti. Nella stessa pareva brutto. Ci saranno gli ospiti. Ospiti eccezionali. Ma anche comuni. Insomma, sarà qualcosa di imprevedibile. Però se continuo a parlarne, poi iniziate a prevederla. Ah, e sarà su Netflix. Anche se questo forse ormai lo avete intuito. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.